Oggi facciamo un breve riassunto, ma anche una piccola festa, piccolissima festa di compleanno per questa legge quadro della politica attiva per la famiglia in Alto Adige. È una legge che ho reeditato dal collega Richataina, ci sono quelle cose che se non ci fossero dovrebbero essere fatte ancora, quindi è una bella cosa, siamo sulla via giusta, ancora sempre siamo nel percorso, ma è la direzione giusta e quindi oggi partiamo e diamo veramente con una spinta nel futuro affinché questo territorio sia ancora più family friendly, quindi è un Alto Adige che sarà un territorio per le famiglie nel futuro. In questi dieci anni sono stati sviluppati tantissimi servizi nell'ambito della famiglia e tante persone si danno da fare con tanto entusiasmo, però quello che non quadra ancora è la busta paga. È proprio nel settore sociale e sanitario che abbiamo bisogno di adeguare questi guadagni ai prezzi nella nostra provincia. Le famiglie hanno bisogno di questi sostegni finanziari che vengono sostenuti dalla provincia autonoma di Bolzano come prestazione gli assegni familiari provinciali o contributi per il sostegno di cura o educazione dei figli. La discussione per me è stata molto interessante perché ho capito e porto appunto a casa che il lavoro per le famiglie può funzionare soltanto lavorando in rete. Tra i comuni, i consorzi provinciali, i comunali, tra i vari cooperative, associazioni, organizzazioni che lavorano nel campo della famiglia perché il tema è così ampio e vario come le famiglie. Grazie a questa legge sicuramente ha inserito un impulso maggiore per la promozione dei servizi alla primissima infanzia. I servizi alla prima infanzia sono cresciuti in questi anni notevolmente sia a livello quantitativo ma anche qualitativo. Questo grazie anche alla collaborazione con le istituzioni del territorio per supportare sempre al meglio le famiglie.